Amici amiche di RB, ritorniamo in diretta da Pinerolo, piazza San Donato per Artigianato Pinerolo 2023, 47esima edizione Le Città Invisibili, questo è il filo conduttore dell'edizione 2023, Le Città Invisibili, celebra Italo Calvino, scrittore di cui quest'anno ricordiamo il centenario dalla nascita Italo Calvino, protagonista e filo conduttore di diversi progetti che stanno caratterizzando questa edizione 2023 di Artigianato Pinerolo Noi intitoleremo questo capitolo della nostra diretta di questo sabato 9 di settembre, Le Città e il Teatro e perché no anche tra parentesi la musica Perché questo? Perché siamo per annunciare e andare nel dietro le quinte dello spettacolo che domani chiuderà Artigianato Pinerolo sulla terrazza meravigliosa e suggestiva di San Maurizio, uno dei luoghi simbolo di Pinerolo Abbiamo con noi Marco Guglielmi, ciao Marco, ben arrivato su RBI Buonasera, ben tornato su RBI, abbiamo con noi i tuoi compagni d'avventura Eh sì, finalmente con noi Ah sì, infatti, abbiamo il piacere di presentare Agnese, ciao Agnese Ciao, buonasera E Tommaso Ciao Voi siete fratello e sorella e siete gli Indivia, due I Esatto, due I Perché due I? Che è successo? Ha una storia questo nome immagino, è lo Tommaso Interessante, interessante Interessante, dai Simpatica L'Indivia è un tipo di insalata che riccia come i suoi capelli Ed essendo un'insalata, noi ci siamo definiti un'insalata musicale, un po' di tutto Nel senso, non un genere preciso La doppia I perché esisteva già un nome simile Abbiamo detto rendiamolo unico, aggiungiamo due I Molta gente se lo dimentica, ma ci sta Quindi volevate assolutamente quel nome Sì, ci piaceva, sì esatto Poi suona bene, dai, l'Indivia Ci può stare, no? È interpretabile Ok, allora Marco, domani sarete in scena, come dicevamo all'inizio del nostro intervento Siete in scena nella terrazza di San Maurizio per celebrare, per chiudere, a Ticinato Piedeurolo 2023 Teatro, musica Non avete scelto Le Città Invisibili, non hai scelto Ma un altro testo di Calvino Sì, abbiamo scelto un altro testo di Calvino In realtà è un testo che non conoscevo, non conoscevamo Le Cosmicomiche Le Cosmicomiche di Italo Calvino Questo testo con questo personaggio assolutamente immaginifico Come molti dei testi di Calvino Che lui, insomma, faceva viaggiare in mondi straordinari Le Cosmicomiche, appunto, per farlo conoscere anche al pubblico Perché si conoscono magari le solite opere di Italo Calvino Invece volevamo far scoprire una nuova opera al pubblico E noi ci soffermeremo con il testo, il primo racconto delle Cosmicomiche La distanza della Luna Ma perché volevamo far viaggiare lo spettatore in un'altra dimensione Visto che si parlava anche di confini Con, appunto, le altre iniziative di Loft e dell'artigianato Volevamo far superare il confine della Terra con un confine lunare E quindi abbiamo deciso di fare questo viaggio Infatti, molte delle canzoni dei pezzi dei ragazzi Saranno incentrati sulla figura della Luna Quindi abbiamo questo filo conduttore che è la Luna Che ci porta verso nuove destinazioni Sicuramente la Luna ispira, ispira tantissimo Certo Dalla poesia, il teatro, la musica Il progetto di questo spettacolo, di questa performance Che unisce teatro e musica Fa parte delle iniziative del Loft Urban Box Ricordiamolo Si è partito, insomma, abbiamo iniziato il viaggio di Artigianato Pinerolo Proprio con i talk del Loft, del cortile del Vescovato Invece voi sarete in scena, terrazza San Maurizio Dopo, anzi, dopo di voi ci sarà l'aperitivo DJ7 Insomma, una grande chiusura di Artigianato Pinerolo Ma torniamo a Cosmicomiche A questo spettacolo, a questa performance Che vedrà in scena te, Marco, come attore Esatto Con Indivia Come è nata questa unione, Agnese? Come avete dialogato? Come avete messo in dialogo musica e teatro e Italo Calvino? Allora, l'unione con Marco in realtà è nata un anno fa Quando ci ha proposto questo format per noi nuovo Quindi di incontro tra musica, la nostra musica e il mondo del teatro Quindi avevamo già messo in scena un piccolo spettacolo appunto un anno fa Come si chiama? Come si intitola lo spettacolo? Dai, diciamolo Cos'era? Niente di personale Niente di personale, esatto E in seguito, in primavera, insomma, è nata questa nuova idea Proprio per celebrare i cento anni di Italo Calvino Marco ci ha proposto di riportare questo format in una veste ovviamente nuova E quindi far rincontrare musica e teatro Visto che è piaciuto comunque l'anno scorso Abbiamo visto che è avuto successo Tommaso, quali canzoni poporrete insieme al testo che sarà interpretato da Marco? Il repertorio già vostro di Indivia oppure un repertorio originale creato anche per questa occasione? Allora, innanzitutto abbiamo scelto Visto che appunto il tema Calvino, comunque la luna è un po' trascendentale Quindi abbiamo scelto di portare delle canzoni che siano un po' oniriche Comunque una dimensione un po' dell'astratto con sinorità particolari Tra queste ci sarà un nostro pezzo, che è un pezzo in francese che va scritto noi Più due pezzi di artisti italiani, artiste italiane, femmine emergenti Quindi non conosciuti però molto carini Più altri due pezzi un po' più conosciuti Però appunto c'è un po' di tutto Abbiamo fatto una cernita più sul mood delle canzoni Sull'espressività e sui testi che parlano di luna principalmente Marco, quindi una sfida, un modo per celebrare Italo e Calvino Che ti vedrai in questo luogo, in questa terrazza all'aperto, in plein air Insomma anche questo è suggestivo Bello, è molto suggestivo Con questo tramonto sulla nostra città E voi celebrate la luna La luna, Calvino, è tutto bellissimo Io so che hai un pezzo da leggere Io un pezzo Ecco, però siccome insomma non sarai da solo sul palco No Di San Maurizio domani, ci saranno anche i di Nivia Voi avete qualcosa anche per noi, Agnese? Siamo fare un pezzettino Possiamo fare, ce lo concedete, dai, ok Allora, adesso come funziona? Mentre tu... Allora sì, io durante la lettura del pezzo Ci saranno dei momenti che abbiamo deciso insieme di pausa musicale Tra un pezzo e l'altro Esatto, esatto Allora Dove la musica sarà d'accollante Nella storia del nostro viaggio lunare Benissimo, benissimo Allora, siamo pronti per vivere questa esperienza live Insomma, è una prova generale Bravo Un'italiana, ecco Tanto guarda, ci sono solo 5-6 milioni di persone in questo momento collegate Pronti, allora abbiamo Marco Guglielmi con Nivia per Cosmicomiche Attigianato Pinerolo Vuoi che parto io o vuoi che parte la musica? Come vuoi? Siete voi artisti? Vuoi fare tu? Faccio io? Facciamo partire la musica Parte la musica e poi entra il testo di Marco Sì Agnese, Nivia Per un momento voglio dimenticarmi che siamo molecole nell'universo La mattina è difficile fare discorsi ma tu sai la differenza Tra il più triste silenzio e una muta città di provincia E se non è abbastanza torniamo a casa a guardare e girare la stanza A girare la stanza Beh, io direi che un applauso a Puglione qui con noi che si è fermato qui nella nostra postazione in DRB Artigianato Pinerolo, Nivia, Agnese, grazie Agnese Marco Guglielmi Mitica Agnese Allora, io vado con un pezzo Si distingueva bene la forma del petto, delle braccia, dei fianchi Così come ancora la ricordo Così come anche ora che la luna è diventata Quel cerchietto piatto e lontano Sempre con lo sguardo vado cercando lei appena nel cielo si mostra il primo spicchio E più cresce più mi immagino di vederla Lei, o qualcosa di lei ma nient'altro che lei In cento, in mille viste diverse Lei che rende luna, la luna E che ogni plenilunio spinge i cani tutta la notte a ululare E io con loro Bellissimo Questo è Calvino Italo Calvino, letto da Marco Guglielmi Dai un altro applauso pubblico di Pinerolo Dai, fateci un applausino Grazie, grazie mille Agnese, Tommaso, una domanda per voi Insomma, voi siete fratello e sorella Come nascono le vostre canzoni? Seguite uno schema? Discutete da fratello e sorella? Oppure tutta un'armonia parlando di musica? No, no, no Litighiamo mai No, diciamo che i pezzi finora usciti Sono nati più da una musica scritta da me Delle melodie scritte da me Un testo in parte coscritto appunto assieme Però d'ora in avanti quello che stiamo cercando di fare È di incontrarci un po' di più Così che anche Agni abbia possibilità di mettere molto più di sé dentro i pezzi Perché giustamente poi è lei che li interpreta a livello vocale Agnese, ad esempio Per noi, che cosa hai interpretato? Adesso il brano? Sì, poco fa Questo è Molecole di Lucrezia Una ragazza che ha partecipato a X Factor l'anno scorso Quindi un artista emergente Bene, ottimo E sarà uno dei brani che interpreterebbe domani? Sarà uno dei brani che, sì, esatto Ah, meraviglioso Canteremo Bene, Marco, insomma Abbiamo fatto un viaggio alla scoperta di Cosmicomiche Bello, bellissimo E' stato anche un modo per riscoprire Calvino anche per voi Esatto Allora, qual è il vostro primo ricordo di Calvino? Scuole superiori e medie Si può leggere anche oltre la scuola, secondo voi? È tosto È una lettura tosta Ma perché? Davvero? È un po' difficile Complicato È da far comprendere Diciamo che Marco la fa comprendere benissimo No, a me Con la sua interpretazione La rende proprio accessibile Forse non siamo più abituati ai classici Probabilmente Quindi È nato cent'anni fa Esatto Quindi abbiamo bisogno di nuovo di ripercorrere un pochino quella letteratura Quel modo di scrivere, di vivere il testo Che è diverso rispetto ad adesso, ovviamente Guardi, io con me ho le città invisibili Dalla biblioteca Le Audi di Pinerolo È tutto sottolineato Non so chi sia stato Utente della biblioteca di Pinerolo Perché hai sottolineato il libro? Insomma, l'ha usato per la scuola Certo Si può leggere, secondo te, Agnese, oltre la scuola Si può fare, no? Certo, sì, sì, sì È molto interessante in realtà Ci sono tanti spunti Grazie per questa considerazione Ok, ci diamo appuntamento domani Domani, assolutamente sì Domenica 10 di settembre A che ora starete in scena in terrazza? Dalle 17.30 Dalle 17.30 in terrazza San Maurizio Fino alle 18.30 Indicativamente un'ora di spettacolo Subito dopo, l'aperitivo Sempre offerto dall'OFT Con la musica e i DJ Che chiuderanno questa edizione 2023 Di Artigianato Pinerolo Cosmi Comiche Con Marco Guglielmi Indivia Agnese e Tommaso Grazie In bocca al lupo Vive il lupo per il vostro progetto Viva il lupo sempre, sì Per il vostro lavoro Grazie per essere stati con noi A domani Grazie Claudio Grazie RBA Ciao Ciao